E se vi dicessi che il mese di Halloween nasconde dei segreti davvero scuri su Brawl Stars Perché sì, se noi adesso apriamo il nostro catalogo Brawler Abbiamo 84 Brawler su 84 e su questo non ci piove Ma nessuno sa che oltre questi 84 Brawler potrebbe essercene uno nascosto Che nessuno conosce proprio a tema Halloween Che apparirà così, dal nulla, come un fantasma di notte Ok, basta, ok, forse Forse sto un po' esagerando, sto rendendo tutto quanto molto più spaventoso Ma a parte gli scherzi, oggi andiamo a vedere veramente dei leaks e dei concept Proprio di skin e Brawler segreti che potrebbero uscire questo mese e non solo Io direi di iniziare ovviamente una partita con un Brawler che abbiamo ben sistemato, no? Qui ad esempio abbiamo questa bellissima skin di Byron che potremmo shoppare Che ho già shoppato sull'altro account ma direi di evitare per il momento Perché non ha senso shoppare su due account diversi Quale potrebbe essere il Brawler più terrificante della storia? Sinceramente non lo so, andiamo a vedere se dentro magari al catalogo skin possiamo acquistare qualcosa di un po' horror Ma certo come ho fatto a dimenticarmelo Il mio pocio scheletrico che voglio assolutamente potenziare Oddio forse ho esagerato, l'ho maxato, non dovevo maxarlo Non ha veramente senso, maxarlo va bene però Andiamoci su footbrawl perché mentre ci giochiamo a footbrawl dobbiamo iniziare a parlare di cose interessanti Ovviamente se vogliamo vedere delle cose interessanti però dobbiamo meditarcele Quindi cerchiamo di vincere la partita e cerchiamo di fare del nostro meglio possibile Con il nostro pocio scheletrico Comunque volevo chiedervi perché io amo Halloween ma lo amo tantissimo Perché sapete sono un po' un amante dell'horror di queste cose qua E quindi non so, voglio sapere se sono l'unico ad amare Halloween tipo come miglior festa dell'anno Oppure c'è qualcun altro come me ma adesso però facciamo attenzione perché già abbiamo preso il primo gol E non va per niente bene, non va bene, dobbiamo dare una mano Attenzione, no, 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 non ci siamo, non ci siamo Mi stanno pushando in tre di loro e non posso fare niente C'è bisogno di evoccare il fantasma di Brawl No, ecco, non possiamo evoccare il fantasma di Brawl, è davvero una cosa strana questa, vero? Va bene, allora magari diamo una mano, madonna mia, no, ce l'hanno distrutti i ragazzi Ci hanno veramente distrutti, ci hanno bullizzati Non va bene questa cosa, non va bene Sapete perché? Perché ora il nostro pocio scheletrico è triste E se uno come lui è triste, beh potrebbe essere un caos per tutti Ma forse non è ancora pronto per una roba del genere Uno pronto potrebbe sicuramente essere Draco Draco il cavaliere oscuro E sapete cosa? No, andiamo su KO Ma che mappa è? Oddio, ok, è una mappa alquanto strana Non pensavo uscisse una mappa del genere Ma la utilizzeremo al nostro vantaggio perché non ci facciamo vedere E sbucchiamo e ammazziamo tutti quanti Perfetto, vai Draco, vai Draco, vai Draco Buttati di cattiveria, non ci posso credere, non siamo riusciti a prenderlo Dai Cap 200 di vita Ma sono morto davvero Mannaggia la miseria Allora, mentre finisce la partita Volevo mostrarvi assolutamente questo concept Questo sarebbe un skin di Spike tutto infuocato È incredibile Ma ora però concentriamoci perché la partita è riniziata E per vedere Spike Mannaggia la miseria Ho lasciato i miei amici da soli Ma adesso non vi preoccupate perché ci pensiamo noi Ci pensiamo noi All'attaccia Vai Boom Godo Ora se ora che abbiamo vinto possiamo vedere le cose con calma Ma prima abbiamo uno star drop Magari da questo star drop potrebbe uscire il famoso star drop di Halloween Ho visto nell'altro video che non siamo riusciti a trovare Andiamo Su Ferrano Dio l'ultimo eh L'ultimo L'ultimo Vai Ah porca miseria Sì ok ok va bene Cento monete ma ne abbiamo un altro Ne abbiamo un altro raro Niente Non c'è storia Non c'è storia Non avremo il nostro star drop di Halloween Allora Un brawler che volevo farvi vedere Che potrebbe uscire su Brawl Stars È lui Ragazzi non fate domande Ok ovviamente che non è un brawler Ma questo sono io con una scimmia E sono un peluche Cioè una faccia sopra quella del corpo di una scimmia E sì Non ha senso ragazzi Non fate domande Per cortesia Come primo brawler che potrebbe uscire Perché voglio iniziare con i brawler Iniziamo da Mary Un nuovo brawler veramente molto interessante Di questi brawler beh non si sa sicuramente molto Possiamo vedere che è un brawler leggendario E vediamo che cosa c'è scritto Mary vuole rendere Vuole trasformare il mondo In una fantastica opera d'arte Lei vuole disegnare E utilizzare i suoi rulli ovunque Per vedere trasformarsi i suoi sogni Diventare realtà Ma che cavolo significa Signorina Mary Cioè tu vuoi trasformare i tuoi sogni in realtà Con la tua arte Beh sicuramente è una ragazzina magica Che potrebbe avere dei poteri particolari Voglio sapere anche qui sotto nei commenti Che cosa ne pensate E secondo voi quali poteri potrebbe avere la signora Mary Ma non c'è solo lei Ci andiamo a vedere questi video E alla fine trarremo la conclusione finale Quale potrebbe essere il brawler segreto di Halloween Perché è sicuro che qualcosa ci nascondono Allora iniziamo da Dande Un brawler molto particolare Sembra tipo un investigatore segreto Con addirittura la spina dello star drop sopra la giacca Ma vediamo che cosa fa Ok Ah è un detective Detective Dande Il detective dello star park E guardate Fermi Questo potrebbe essere un indizio Potrebbe essere un indizio Calmi C'è un fantasma Oddio È il detective caccia fantasmi Colui che potrebbe proteggerci Dalle cattiverie Dalle cose spaventose di Halloween Questo teniamoci nel signor Dande Perché potrebbe davvero essere Una svolta Ok Cerca di risolvere i casi Va bene Allora Utilizza Le pistole E queste sono le sue particolarità Ha 6000 di vita Fa 3 attacchi in uno E ogni attacco Toglie 710 Ah no aspetta Il primo attacco Toglie 710 Il secondo 1040 Il terzo 2200 Il range È normale All'inizio Poi diventa long E poi very long Strano perché ogni attacco Sembra essere diverso Quindi praticamente ogni attacco Lui cambia modalità di attacco Bisogna saperlo usare Potrebbe tranquillamente essere molto Molto skill come brawler Vediamolo Sarebbe sicuramente un brawler epico E questi sarebbero i suoi pin Guardiamoli ragazzi Ecco Dande felice Poi c'è Dande triste Poi abbiamo Dande incazzato Va bene Dande Tu mi piaci Devo essere sincero mi piaci Ma andiamo avanti con il prossimo Brawl Oddio Dian Questo è orribile ragazzi Questo è orribile Questo è sempre tipo un poliziotto Ma è un poliziotto che gli è successo qualcosa Cosa gli è successo Signor poliziotto Cosa è successo Questa notte ha dormito male Non lo so Ma guardate E ha un colpo umano Ma si trasforma in mostro oscuro E lo vediamo che attacca Con i suoi artigli È incredibile Questa è una sua foto su Basket Brawl E vediamo È un assassino Aspetta Tendiamo un attimo di video Perché dobbiamo analizzarlo molto bene Dobbiamo analizzarlo benissimo Eccolo qua Assassino con 704 mila Eh? 700 7 mila Quattrocento di vita Movimento molto veloce Danno doppio Da 1100 Ed è Da un range Leng Cioè Short Quindi Vicino È da un range Vicino Quindi colpisce da vicino Vabbè ci sta Toglie anche un sacco di vita Sarebbe un brawler mitico E questa è la sua immagine Ragazzi Io lo amo Io spero sia lui il brawler Perché è veramente stupendo Un brawler oscuro Sicuramente pieno di segreti Che potrebbe davvero Darci grandi soddisfazioni Ma andiamo avanti Con Mario Nese No Mario e basta Mio Vediamola È tipo una Ragazzi ma questa anche lei È tipo un fantasma Questi sono tutti i concept Di Halloween Io lo sapevo Io lo sapevo Questo video è clavoroso Stavo scoprendo un sacco di brawler Che potrebbero davvero uscire Questi non sono brawler ufficiali Sono dei concept Ma molto spesso capita Che Brawl Stars Da questi concept Poi veramente caccia dei brawler Qui abbiamo una Cameriera Che ha come Aiutanti Dei fantasmini E infatti vediamo Che non ha le gambe È una cameriera fantasma Ed è tipo Non ci credo È tipo la tata di gas Perché io giustamente È un bambino E lui ama i fantasmi E quindi Oddio Questo sarebbe Sarebbe glamoroso Ci piace Utilizzerebbe come arma La candela E vediamo 6100 di vita Non sto a farmi indietro Perché qua non si vede più niente 1800 di danno Con range lungo È ricarica molto velocemente E quindi potrebbe essere Molto utile Poi vabbè Se volete Andare a vedere Più i dettagli O che abbiamo anche Gadget e le abilità stellari Ma non le andrò a leggere Tutte quante Perché sennò Non finiamo più È sempre Mitico E ci fa La mossa La mossa del Sai zitto Tu non mi hai visto Vabbè Ma d'altronde Ogni fantasma È come se fosse Un segreto vivente Non deve farsi vedere E lei è una Che si vede Vuole che il segreto Rimanga mantenuto Ma andiamo avanti Andiamo avanti Perché sicuramente Avremo un prossimo Broder Ma chi è questo? VR 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 Sta scritto qui sotto La web Quindi magari Spostiamolo un attimo Leggiamo VR Questo qui è tipo Compagno di Chrome Per forza Hey calm down I'm here Ok bro E' tipo Un uomo che controlla Lo star park Uomo della sicurezza E questo è il suo Radio ricevitore È un broder Parecchio strano Ma sicuramente Fa parte della famiglia Di Chrome Su questo penso Io sia abbastanza certo Ma andiamo a vedere Che c'ha 7300 di video 8300 di danno doppio Con range Lungo Ok Ci può stare Però questo non credo uscirà mai Tra l'altro Leggendario Non lo so Un po' Mi puzza Ma la cosa più che mi puzza È che è un po' Troppo simile A Grom Non lo so Non credo che potranno mai Inserire un broder Così simile Ma Comunque È un'idea molto carina Ma per il momento Torniamoci su Brawl Perché abbiamo finito Il credito delle news Non posso portarmi a casa Alte news Se non ci vinciamo una partita Con la nuova Maschina del leone Che se vedete Questo leone Non l'ho comprato a caso Perché il suo attacco Questo qua Degli artigli Assomiglia al broder Che abbiamo visto prima Quello lì Col corpo Tutto quanto nero Ce l'andiamo ad attivare E andiamo ad utilizzare Subito questo leone Che è clamoroso Quindi andiamo sempre Su K Ma io ragazzi Devo vincere Devo vincere Perché voglio scoprire Tante novità Tante cose Poi magari se vinciamo Prendiamo gli star drop E magari troviamo anche Lo star drop di Halloween Che ancora non ho capito Se è una leggenda Metropolitana Oppure no Perché dallo scorso video Non abbiamo trovato Una risposta Alcuni dei commenti Mi hanno detto Che l'hanno trovato Alcuni mi hanno detto Che non esiste Quindi è davvero Una cosa di cui Sono parecchio curioso E a cui devo Investigare meglio Magari il brawler detective Di prima Potrebbe darci sicuramente Una mano Qui attenzione E ho provato a buttarmi A kamikaze Ho fatto una kill Ma non sono riuscito Ad arrivarci Che sono morto prima Vi prego amici Non puoi di darmi una mano Killate Quel maledetto colt No Attenzione a pocio Che ci sta morendo Eh ragazzi Non ci arrivano Dai 8 bit Dai che ce la fai Dai che ce la fai 8 bit Devi solo avvicinarti Un pochettino Vai Un pochettino O magari un pocettino Eh perché c'è poch Pocio No eh Vabbè Dai pocio Dai Dai Lo stai facendo Fare tutto quanto il giro Sta ricoprando Tutto quanto la vita Non si gioca così Lo vogliono chiudere Nella safe Ma così non ha senso Perché la safe Si avvicina E oddio però E lui è rimasto chiuso Effettivamente Lo hanno intrappolato E mo scusami bro Adesso dimmi Che cosa vuoi fare Perché sei rimasto chiuso E ti prendi La safe Per prima E quindi schiatti C'è ben poco da fare Ti sei chiuso Scelta poco intelligente Da parte tua Posso dire Abbiamo vinto il round Abbiamo vinto il round Max scimmia Vai Allora sicuramente Non fatemi domande Perché ho Questo max scimmia In camera È davvero una lunga storia Davvero una lunghissima storia Ma attenzione Perché qui ci danneggiano parecchio E Bull Non è sicuramente Il bro del più adatto Ma Attenzione perché qui c'è una fang Che Oh wow wow Ci hanno distrutti Ci hanno veramente distrutti Asfaltati Va bene Siamo pari Siamo pari Si può fare Si può fare Con calma Con calma Va No 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 Ma pensavo di riuscire a fare meglio ragazzi Invece ho fatto una figuraccia Clamorosa Qualcuno lo aiuti Poccio vai Ammazzalo Ok Poccio contro Poccio Ti prego Poccio Ti prego Siamo tutti con te Ti prego Ti prego Ti prego Dai non voglio perdere sta partita Non voglio perdere sta partita Varci vicino E fagli vedere di che passo sei fatto Vai Puccio lo che c'hai Beh E mo c'hai meno vita No 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 Devi recuperare Devi recuperare Vai via Vai via Vai via Che hai poca vita Hai poca vita Sei quello di Puccio Sei finito Sei quello di Puccio Sei finito Vai 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 Sei curato Uso loco con un gadget Ma mi ha pochissima vita E non ci posso credere Dai Ok che ho fatto schifo E che non mi meritavo sta vittoria Però no ragazzi Questa Potevamo vincerla Andiamo avanti con un altro brother Che mi ero segnato io Eccolo qua Il signor Antoine Anche lui mi sembra tipo una sorta di Maggiordomo Ma leggiamo Antonio Lo chiameremo Antonio È un ragazzo tranquillo Gli piace l'oscurità E il fuoco Dovrai tener conto di essere più gentile Quando avrai a che fare con lui Eh perché a quanto pare è uno molto aggressivo Il signor Antonio E vediamo che il signor Antonio Voilà È un brawler Qui cioè si vede che è mitico In realtà Qui vediamo che è leggendario Ma non si è capito bene Se è mitico o leggendario Comunque è mitico o leggendario E quindi abbiamo capito Che il signor Antonio È tipo un brawler Alla A ambra Perché anche lui È un amante del fuoco Ma anche Dell'oscurità Quindi potrebbe Centrare con Halloween E potrebbe entrare Nei brawler segreti Che usciranno Ad Halloween Io però voglio una certezza E quindi andiamoci a vedere Le varie skin Che usciranno Sicuramente In questo Mese Horror Vediamo che abbiamo Shelly la strega Leon il lupo mannaro E Piper Scheletrica Wow Stupenda Piper così Devo dirti la verità Ma molti non sanno La storia Dietro a questa Shelly Perché ci fu un bug A un certo punto Che fece uscire Questa skin Di Shelly Completamente Gratuita All'interno Del negozio Mo Io non so Non voglio dire stupidagini Magari era di un vecchio 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 pass Non ne sono certo Ma sicuramente Quello fu un bug Di metterla gratis E quindi magari Per ricordare Quei bei momenti O almeno Per fare una cosa Ironica Sul bug Magari potrebbe Riuscire Sempre gratuita E disponibile A tutti Non lo so Se magari sarà davvero così Ma sicuramente Potrebbe essere Un'idea Abbiamo Eugenio Della palude Che è stupendo Divene tipo Ranocchio Tutto quanto Strane Horror Davvero particolare Abbiamo Surge Kong Ma questo qui Già l'abbiamo visto Abbiamo Stu Headless Rider Questo qui anche Clamoroso Sicuramente Tornerà Squeak Il fantasma Questa è stupenda Ragazzi Squeak Visto in questo modo Con la pelle da fantasma E con questa catena Che lo vuole fermare A tutti i costi Lo amo Poi abbiamo Gelindo Ghostbusters Anche questa Clamorosa Buzz tipo Regista di film Guardatelo Ha tipo Vedete Il megafono Che Per dare le indicazioni Quindi questo È praticamente Il regista Di un film horror Il conte Pinguino Il conte Pinguino È clamoroso Poi abbiamo Ciola Che Ragazzi Non Spero di non Fraintendere Cioè Bullcciola Nel senso È il nome del brawler Non Quell'altra cosa lì Spero non abbiate capito Me lo auguro Me lo auguro Poi abbiamo Abbiamo Jesse Gatto Corvo Capitano E B800 Che è tipo Bull Mezzo Robotico Clamoroso Ora direi di farci Un'altra carrellata Di brawler Che potrebbero Uscire Abbiamo Candy Green Quindi Caramella verde Ok Questo No Non mi piace Onestamente Posso dire la verità E non credo Uscirà Ho questo presentimento Sì vabbè Questi sono Le sue star power Le sue gadget È ok Poi abbiamo Uh Chase Questo è tipo Un uomo Mezzo animale Mezzo Non saprei cosa È un coyote È un coyote Beh Questo è molto carino Dovete La verità Molto carino Però ragazzi Dai Tutta questa roba E poi non mi metti Max C Cimia come brawler Cioè dai Max Cimia Deve esserci per forza Abbiamo qui una giocatrice Di tennis Cioè Sinner su Brawl Stars Boh Non lo so Un po' strano questa Non credo Verrà mai messo Ma mai dire mai Magari come skin Dennis Che è un dentista No Direi che queste Sicuramente Non usciranno Ad Halloween Ho questo presentimento Credo che non usciranno Mai ad Halloween Ma guardiamo Perché potrebbe Sicuramente Arrivare qualche Qualche segreto Nel video Che non conosciamo Jennifer Questa è una Combattente laser Dello spazio Presemente Provenita da qualche Minigioco Di qualche Saragiochi Perché sembra uscita Veramente da lì Guardate lancia Bombe Lancia cose Assurdo Assurdo Poi abbiamo Justin No ragazzi Ma dai Ma che sono Sti broker Ma sicuramente Non verranno mai inseriti Ne sono Abbastanza certo Lady Yellow La signorina gialla Anche questa Un'amante del rock'n'roll Che lancia le sue casse Per fare il grosso rumore Ci potrebbe stare Ma no Non è per niente A temarlo Andiamo molto velocemente Lei ci può stare Lei è tipo una Anche lei è una pittrice Però la vedo un po' strana Forse tipo Impossessata Una roba del genere Quindi potrebbe starci Magari Per la season horror Di Halloween Roland E Roland Ci sta Però questo ragazzi Più che un nuovo brawler Mi ricorda Edgar Cioè guardate questo Questo full art Che tiene qui Sembra un po' Magari quello che ha Edgar In alcune skin Mo dite che mi sbaglio Dovrebbe essere Praticamente così Però questo qui Questo brawler Ha come caratteristica Due Forbici Zack zack Cioè cosa fa Ti taglia Non lo so veramente Mi sembra veramente Eccessivo Vabbè Ti vuole tagliare Un tagliatore seriale E a noi va bene così Ma prima di chiudere il video Volevo far vedere questa cosa Se voi non avete acquistato Quando c'era l'evento di Spongebob Le skin di Spongebob Nello shop Ora si può letteralmente Shoppare Tutto Cioè io non pensavo Ragazzi Guardate Qui possiamo prenderci Letteralmente ogni cosa Anche la skin Di il primo Spongebob Cioè hanno rimesso Tutto quanto Incredibile Questo proprio Non pensavo Lo facessero Pensavo lasciassero Queste skin esclusive Ma a quanto pare Ho deciso di farle apparire Tutte quanti adesso Per Per degli euro E questo posso dire È un po' uno scam Perché se mi fai pagare Sta skin 5 euro Quando magari io Ho speso molto 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 di più Con dei verdoni Quando c'era l'evento E invece adesso Bastava aspettare E lo pagavi 5 euro Mi sento Scammato Ma per oggi Direi che il video Finisce qui Ma alla fine Quale sarà Il broker di Halloween Che apparirà Nel nostro gioco Beh questo Non lo sappiamo Però potete indovinare Qui sotto nei commenti Tra quelli che abbiamo visto Se secondo voi È possibile Ci vediamo Ciao Ciao